No, non è fare foto Peppe, non è una foto, è un filmato, è un filmato, è un filmato, come è il marco, si, dopo per i clienti, per i clienti, per i clienti, per i clienti, è un filmato, 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 non c'è pure l'ombra, se tu fai in piscina ieri, non ci sei andato, c'è pure l'ombra, stanno, allora l'avevo messo tutti al sole, Giovanni, allora, no, io ero, ma ne è in piscina, se ti ho dormito, non ne potevo più, va, Albino, ti riprendo la testa, non ne fa bene. Lui non ce l'ha ai cani, non ce l'ha ai cani, non ce l'ha ai cani, allora, tutto, Oh, è nel dubbio, la stagione, la persona più seria è il cammina, guarda. Peppe, ma te ne hai detto il sole girare? Beh, ma tu figlio è congelante, perché congelare? Ma ventevolmente più, no, eh. Qua fa? Peppe, ma sentina, prima, in corso della mente, mai detto il sole girare, quindi devo mettere il sole che fra un po' venire a lombra. Eh, abbi pazienza. Ma finiamo mangiando il sole. Oh, beh, questo è il sole che me ne parte. Eh, questa passa. Ma andamola a casa. Eh, sì, non ce l'ha più. Guarda, già che mi ha fatto. Caspita, Diego, date una regolata, le donne che potrò il libretto come se dopo la c'è scritto. Dai, Diego, guarda. Diego, guarda. Questo gioco, perché? Questo gioco. Ma stai, famiglia? Taci tu. Leo. È un video. È un video. Vai. Guarda un po', guarda qui, guarda qui, guarda qui. È un video, perché? Hai visto pure Peppe, che sei fatto il video. È un video. Quelle più brutte. Ma se ne alleno andate in Pompidotto. Vedi, sei in Pompidotto. Ecco, mo' ti spiego io. Non mi pare di aver dato segni di pedofilia nel momento in cui sei stato qua su. È me. Chi hai su me? Lui c'è fatto. Sei in Pompidotto. Ma te ringrazio. Ma te? Ma te è male. Sta già pedoppido. Stai con mio? Ma tu stai con mio? Ma questa è due anni prima. No, non c'era. E' una cosa in Pompidotto. Non è forte. Non stai fatto. Non cazzo. No. Ah, cazzo. Ah, cazzo. Buon, buono. Buono. Non c'è nulla. Buono. Dopo, bravo. Montese. Non cazzo del traffato. No. No. Ma non cazzo. No. No. Oh, ragazzi. C'è dei posti pure là dietro, eh. Oh. Grazie a tutti.